Vedova di un armatore. Nonché mia cara amica personale. Se ne è andata perché le stavate troppo addosso. No, no, no. L'Alzheimer? Allora troverai anche me. Purtroppo no, a meno che lei non sta con qualcuno. Lei è ricca. Può essere un rischio. Mamma, la fede non se la toglieva mai. Ogni scomparso ha i suoi segreti. E lui deve scoprirli per ritrovarli. Ritorni, scompari di nuovo. Non ti illuda, Masantonio. Perché mi cerchi? A precedenti. Colpa delle cattive compagnie. Ma è un anno che non lo vedo più. Mi aveva chiesto di sposarla. Luca si stava convertendo. Masantonio, sezione scomparsi. Prima assoluta, venerdì in prima serata, Canale 5.